Benvenuti nel nostro canale, importante per noi avere il tuo supporto, prima di iniziare il video premi il pulsante iscriviti, lasciami un mi piace, e attiva la campanella per non perderti le prossime novità. Albano e Romina Power nonni, la figlia Romina è incinta. Albano e Romina Power potrebbero diventare nonni per la quarta volta, poiché secondo alcune indiscrezioni, la secondogenita dei due famosi cantanti, Romina Carrisi, sarebbe in dolce attesa. Questa potrebbe essere una notizia emozionante per la famiglia Carrisi, già ben nota per la sua musica e le vicende personali. Romina Carrisi ha attirato l'attenzione dei media dopo che il settimanale Diva e Donna ha pubblicato uno scatto che sembra suggerire una gravidanza. Nella foto, la 36enne indossa un abito verde e si accarezza il ventre in modo che evidenzia una piccola curvatura. Questa immagine ha scatenato le speculazioni sulla possibilità di una gravidanza imminente. La vita sentimentale di Romina Carrisi sembra essere in un momento felice, il che alimenta ulteriormente le congetture sulla gravidanza. Nel corso degli ultimi due anni, ha condiviso la sua vita con Stefano Rastelli, 52 anni, ex regista di Esterna di Oggi è un altro giorno. I due si sono incontrati proprio durante la produzione del programma e sono stati insieme da allora. La loro relazione sembra essere stabile e seria. Le prime presentazioni ufficiali tra Stefano Rastelli e i suoceri, Albano e Romina Power, sono avvenute in occasione del 35esimo compleanno di Romina Carrisi. Questo evento potrebbe aver segnato un importante passo nella loro relazione e aver rafforzato i legami familiari. Mentre attendiamo ulteriori conferme sulla presunta gravidanza, i fan della famiglia Carrisi seguono con interesse gli sviluppi di questa storia. Se fosse confermato, questo nuovo arrivo sarebbe sicuramente una gioia per i Carrisi e aggiungerebbe un nuovo capitolo alla loro storia familiare già ricca di emozioni e successi musicali. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli su questa possibile nuova benedizione per la famiglia.